Ciao ragazzi, 31 marzo, un crimine al giorno alla botteguccia dei sigili, torniamo in Italia e torniamo in un ambiente di crimine tra virgolette classico con l'uccisione di una giornalista. Guarda caso, i giornalisti in Italia vengono uccisi in quantità e spesso questi reati non trovano una vera e propria soluzione. Andiamo a vedere di che cosa trattiamo oggi, siamo il 31 marzo del 1981 e siamo in via Petrarca 133 a Napoli. La celebre Anna Parlato Grimaldi di anni 45, giornalista e collaboratrice esterna del mattino di Napoli, viene uccisa tra le 20 e 35 e le 20 e 45 con tre colpi di arma da fuoco, esattamente una pistola Browning Baby calibro 6,35. Non ci sono testimoni oculari per il crimine, viene arrestata il giorno dopo Elena Massa, anni 53, giornalista del mattino, collega quindi di Anna Parlato Grimaldi che pareva avere alcuni rivalità negli affetti al di fuori del matrimonio di entrambe e tutto ciò portò a un interrogatorio piuttosto lungo e difficoltoso della massa e una detenzione di 109 giorni della massa stessa in prigione prima che fosse liberata per una certa mancanza di corrispondenza della posizione della massa al momento del delitto stimato di Anna Parlato Grimaldi sebbene ci fossero effettivamente di mezzo delle amicizie e una sospetta rivalità negli affetti fra la sospetta e la vittima di questo reato viene liberata sta di fatto che nel momento in cui viene liberata si dà alla latitanza e rimane latitante per tre anni e la massa viene sostanzialmente riportata al ribalta delle cronache, delle indagini nel momento in cui vengono stabiliti per esempio dei legami immediati tra quella che era stata la pistola Browning Baby calibro 6,35 che aveva ucciso con tre colpi Anna Parlato Grimaldi e viene a tutti gli effetti riarrestata e portata a processo tre anni dopo non si riesce nonostante tutto e dopo un anno e mezzo di processo a chiarire le prove una certa quantità di prove che possano portare alla assoluzione di che possano portare alla condanna di Elena Massa scusate che viene assolta per insufficienza di prove nell'arco appunto di un anno e mezzo nel 1986. Ora ovviamente in ambiente camorristico e in ambiente ricco di microcriminalità relativa per esempio ai piccoli anche rapporti umani che ci sono nel napoletano e all'interno dell'ambiente di pubblicismo in cui lavorava Anna Parlato Grimaldi viene sostanzialmente portato agli inquirenti il sospetto che possa esserti trattato dell'intervento della criminalità più o meno grande all'interno del napoletano ma in realtà non c'è nessun tipo di inchiesta e nessun tipo di articolo che viene mai pubblicato da Anna Parlato Grimaldi come collaboratrice esterna del mattino che possa in qualche maniera collegare il delitto a un delitto di stampo camorristico insomma un delitto di stampo mafioso come invece è avvenuto ovviamente per personaggi celebri purtroppo caduti sotto le armi della camorra come lo stesso Giancarlo Siani per quanto concerne il mattino di Napoli rimane il fatto che questo è uno dei tantissimi casi 31 marzo 1981 in cui un giornalista in Italia cade in questo caso probabilmente per una certa rivalità degli affetti ma che non viene carita cade sotto colpi di pistola peraltro posseduta e legata alla persona che viene incriminata ma comunque scagionata per insufficienza di prove e una incongruenza soprattutto temporale per quanto concerne il momento del delitto un crimine al giorno 31 marzo ci vediamo domani con la prossima pillola di crimine fra le meno conosciute e le più particolari ciao